Le persone tra i 40 e i 60 anni potranno ricevere la terza dose. A partire da dicembre si allarga la platea degli italiani che riceveranno la terza dose della vaccinazione anti-covid. Dal primo dicembre infatti potranno essere immunizzati con la cosiddetta dose booster utilizzando un vaccino a mRNA. Anche le persone tra i 40 e i 60 anni per le quali siano trascorsi sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario con due dosi. Ad annunciare l'estensione della campagna è il ministro della salute Roberto Speranza che definisce la terza dose come assolutamente strategica. Da dicembre si aprirà dunque una nuova fase che vedrà coinvolti altri 15 milioni di italiani compresi in questa fascia anagrafica. Con il confronto svolto, ha spiegato il ministro durante il question time alla Camera, annuncio che facciamo un ulteriore passo avanti. La terza dose è strategica per la campagna vaccinale. Siamo all'83,7% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale e il richiamo ad oggi è stato offerto a 2,4 milioni di persone.